Grazie a tutti. Luca, ci sono? Posso cominciare? Salve a tutti. Benvenuti nel mio studio. Non è mai stato così affollato, sia pure in forma virtuale. Avrei preferito potervi vedere anch'io. Spero soltanto che il collegamento funzioni a dovere. Funziona? Sentite la mia voce correttamente? Sì, professore. Grazie, Luca. Bene, vorrei iniziare dandovi una buona notizia. Siamo vivi. Mi sembra importante di questi tempi. E una prova sono proprio queste letture filosofiche e serali che dobbiamo ai nostri coordinatori con gratitudine. Forse vi chiederete perché in un ciclo che si intitola letture filosofiche e che quindi presuppone che si leggano pagine di filosofia, io abbia scelto un passo di storia greca. la peste di Atene del 430-429 avanti Cristo. Un motivo ovvio è l'attualità. Quanto stiamo vivendo ci ispira a confrontarci con modelli del passato. e la peste di Atene è per noi il primo esempio di una patologia collettiva di cui conosciamo, grazie allo storico atenese Tucilide, i dettagli. Ma a parte l'attualità, c'è qualcosa, a mio avviso, di più interessante. E per iniziare vorrei citare alcuni passi da un articolo di Carlo Rovelli. Carlo Rovelli è un fisico di fama internazionale, appassionato cultore dei filosofi antichi. Un articolo che Carlo Rovelli ha pubblicato il primo aprile scorso sul Corriere della Sera, dove scrive fra l'altro, a proposito della nostra pandemia, quella che è in corso non è una battaglia fra vita e morte. Non dobbiamo vederla così. In questi termini abbiamo perso comunque, perché vince sempre la morte alla fine. Siamo mortali. Quello che sta veramente facendo questa epidemia è metterci davanti agli occhi qualcosa che di solito preferiamo non guardare. La brevità e la fragilità della nostra vita. Il tema filosofico di questa lettura saranno proprio la brevità e la fragilità della nostra vita, di cui la peste di Atene è solo un esempio, illustre. dal punto di vista filosofico mi sono lasciato guidare da un libro che giudico molto bello e profondo e che vorrei senz'altro suggerirvi di leggere. L'autore è Mauro Bonazzi, storico della filosofia antica, insegna alle università di Utrecht e di Milano. Il libro pubblicato di recente da Inaudi si intitola Creature di un sol giorno, i greci e il mistero dell'esistenza. Il titolo Creature di un sol giorno allude appunto alla brevità della vita umana. È ripreso da alcuni versi celebri di Pindaro della Pitica Ottava che dicono Epameroi, ti detis, ti dutis, schiasonar anthropos. Epameroi, cioè Creature di un sol giorno. Ti detis, chi è qualcuno? Ti dutis, chi è nessuno? Schiasonar anthropos. Sogno di un'ombra è l'uomo. Ma accanto alla brevità la fragilità. Il fatto di essere esposti e vulnerabili alla natura, alla sorte, al destino o agli dei capricciosi. Spinoza riteneva che la filosofia antica fosse stata una meditazione della morte, si doveva invece meditare la vita. Non una meditatio mortis, ma una meditatio vite. Attraverso il libro di Mauro Bonazzi credo vedremo come per i filosofi antichi in realtà la meditatio mortis è parte integrante della meditatio vite. Il libro di Mauro Bonazzi ci permette di leggere alcune delle pagine più suggestive dei filosofi antichi e sicuramente è di grande interesse anche per chi non è particolarmente interessato alla filosofia antica. vi leggerò alcuni passi dal libro di Mauro Bonazzi per illustrare il problema soggiacente a eventi come la peste di Atene, della brevità e fragilità delle creature di un sol giorno. Scrive Bonazzi parlare di esseri effimeri di creature di un sol giorno vuol dire mettere al centro di tutto il problema fondamentale la morte appunto il problema non è che moriremo questo è un fatto scontato Rovelli direbbe la morte comunque prevarrà. Il problema è che la morte rischia di togliere valore e significato a tutto quello che siamo e che facciamo. Il problema della morte riguarda prima di tutto la vita. In questo senso la meditatio mortis è una meditatio vita. Qual è il senso dell'esistenza umana? Ma prima il libro di Bonazzi si distingue oltre che per il fascino delle pagine di filosofia antica che legge così acutamente si distingue almeno per me per il fatto che alla fine nell'ultima pagina del libro ci dà la soluzione del mistero dell'esistenza umana almeno quella che cogliamo attraverso i testi antichi. È una soluzione insieme semplice e profonda e aggiungerei per quanto mi riguarda vera. ma prima di vedere il modo come Bonazzi articola nel suo libro il problema della morte vediamo brevemente vediamo scusate vediamo brevemente che cos'è la peste di Atene il punto di partenza della nostra riflessione Tucidide descrive la peste di Atene del 430-429 avanti Cristo nel secondo libro della guerra del Peloponneso ai capitoli 47-54 è un testo celebre nell'antichità Lucrezio lo parafraserà alla fine del De rerum nature considerandolo un documento di scienza in effetti quello che Tucidide fa in queste pagine è di dare quello che noi chiameremo un quadro clinico della malattia o pestilenza dell'Oimos che attanaglia Atene un quadro clinico dove espone dettagliatamente sia le manifestazioni soggettive della malattia cioè sintomi ciò che il malato dice di provare o di sentire sia le manifestazioni oggettive i segni che il medico può osservare direttamente e a conclusione di questo resoconto clinico Tucidide individua due aspetti della malattia quelli che considera i più terribili Tadeinotata da un lato l'aspetto psicologico la afimia lo scoraggiamento che prende chi si ammala insieme all'enelpiston alla disperazione e dall'altro lato il contagio il fatto che la malattia misteriosamente colpisca per contagio dopo avere delineato il quadro clinico e i due aspetti più terribili della malattia Tucidide ne espone le conseguenze per la vita comune le conseguenze sociali e morali vengono meno in città vengono meno in Atene le pratiche funerarie consuetudinarie i cadaveri restano insepolti o vengono bruciati su pire anonime è un'immagine tragica e l'altro aspetto della disgregazione sociale e morale della città in preda alla pestilenza l'altro aspetto è quella che Tucidide chiama anomia l'illegalità sentendosi addosso già una condanna i cittadini di Atene si danno a pratiche che sovvertono le leggi fino allora vigenti la sola triste certezza è quella della morte è stato scritto di fronte alla quale qualunque altra regola perde valore e di fatto viene impunemente trasgredita la sola triste certezza è quella della morte questo in breve il contenuto dei capitoli dedicati alla peste di Atene Bonazzi nel suo libro non parla della peste di Atene mi sono interrogato molto sul perché non faccia mai riferimento né a Tucidide né a Lucrezio a proposito della pestilenza quello che Bonazzi invece esamina con attenzione è un altro testo di Tucidide è in realtà ciò che immediatamente precede i capitoli sulla peste la peste esplode nell'estate del 430 avanti Cristo nell'inverno precedente Pericle era stato chiamato a tenere l'epitafio l'orazione funebre per i caduti del primo anno di guerra anche qui siamo di fronte al problema della morte ma è qualcosa di radicalmente diverso dalle pagine della peste Tucidide passa dall'epitafio di Pericle alla peste di Atene senza apparentemente rilevare questo contrasto è un passaggio che dà da pensare ma che cos'è la morte qual è il problema della morte nel caso dell'epitafio di Pericle qui qui non siamo di fronte alla morte per malattia qui siamo di fronte a quella che gli antichi chiamavano la bella morte la morte eroica in battaglia Pericle è chiamato a celebrare i cittadini caduti per Atene nel primo anno di guerra e Bonazzi fa un esame attento di questa orazione è un testo bellissimo ancora secondo libro della storia della guerra del Peloponneso i capitoli 35 e 46 Pericle è stato scelto per tenere l'orazione funebre perché uomo di ingegno dice Tucidide e di rispetto ma la sua orazione funebre verrà meno alle attese del pubblico nel senso che Pericle non terrà il solito elogio funebre dei caduti ripetendo luoghi comuni sull'argomento ma immediatamente porrà una domanda quella che suscita il problema della morte di chi è caduto in battaglia per Atene qual è il senso delle loro morti scrive Bonazzi rispondendo a questa domanda Pericle offrirà una delle meditazioni greche più alte sul senso dell'esistenza umana è così il discorso di Pericle l'epitafio di Pericle è uno dei passi salienti non solo del pensiero antico invito tutti voi a leggere i capitoli dedicati all'epitafio ma come rispondere alla domanda qual è il senso della loro morte dovrebbe essere ovvio almeno per i parenti che piangono i caduti invece Pericle ritiene che ci si debba interrogare sulla città per cui questi cittadini sono morti in questo modo offrire una risposta al problema della morte affrontare la morte è un modo per interrogarsi sugli esseri umani sul senso della nostra esistenza di quello che possiamo e non possiamo fare questo è il modo di Pericle di affrontare la morte dei caduti in battaglia e Bonazzi commenta tutto il pensiero greco è una riflessione su questo tema si parte dalla morte per spiegare il mistero dell'esistenza il problema della morte riguarda prima di tutto la vita la meditatio mortis e prima di tutto la meditatio vita qual è dunque il senso della loro morte il senso della loro morte ciò che giustifica i caduti in guerra nel primo anno della guerra del Peloponneso per Atene è la città di Atene una giustificazione sufficiente per il sacrificio di chi è morto combattendo per lei Atene non è solo una città Atene per Pericle è un progetto è la parte più avanzata dell'umanità Atene è la democrazia il governo della maggioranza Atene è il principio di eguaglianza di fronte alla legge Atene è il criterio del merito che si sostituisce ai nobili natali non abbiamo bisogno dice Pericle di un omero che canti le nostre gesta le nostre realizzazioni sono dimostrate dai fatti sono monumenti eterni in realtà la più nobile delle sepolture è la memoria della città Atene è la città per cui si è giustificati a dare la vita e conclude Bonazzi questa lettura dell'epitafio di Pericle così Partito da una condizione di solitudine e isolamento Pericle ha progressivamente ampliato i confini di ciò a cui dava voce arrivando a parlare a nome dell'umanità intera ripeto Atene non è una città fra le altre Atene è un progetto qualcosa che l'uomo deve prefiggersi nella sua vita Atene parla a nome dell'umanità intera Atene con la sua democrazia esprime quello che può essere l'essere umano e il progetto realizzato di una comunità non più preda del destino ma proiettata alla conquista del futuro di una città che è misura di tutte le cose per parafrasare il celebre frammento di Protagora l'uomo è misura di tutte le cose ed è vincitrice sulla morte ecco ora possiamo forse cominciare a vedere qual è il problema che pone il libro di Bonazzi queste due espressioni Atene è il progetto realizzato di una comunità non più preda del destino da un lato e dall'altro è vincitrice sulla morte questo fino al paragrafo 46 al capitolo 46 del secondo libro della guerra del Peloponneso di Tucidide ma che ne è della città che Tucidide chiama scuola dell'Ellade che ne è della comunità non più preda del destino vincitrice sulla morte una volta che con una volta che con Tucidide voltiamo pagina e incontriamo la devastazione anche morale che la città subisce qualche mese dopo a causa della peste Bonazzi non affronta questo problema sarei tentato a questo punto di scrivergli per sapere perché ha taciuto il lato scuro della vicenda di fatto siamo di fronte a quella che Aristotele chiamerebbe una peripezia tragica cioè una un capovolgimento dalla buona alla cattiva sorte nell'epitafio di Pericle la buona sorte la bella morte la città scuola della Grecia dall'altro lato la pestilenza e il degrado umano a cui ha condotto gli abitanti della città è una peripeteia è in realtà un quadro tragico che Tucidide disegna rimane la domanda che cosa fare di questa di questo scenario tragico di questa peripezia la città vincitrice sulla morte quale vittoria pochi mesi dopo quale vittoria e che cosa significa questa peripeteia questa peripezia tragica disegnata dalla storia e con mano potente dalla prosa inarrivabile di Tucidide nel libro di Bonazzi non c'è una risposta tranne alla fine quando Bonazzi di fatto ci consegna la sua tesi semplice e profonda riguardante i greci e il mistero dell'esistenza alla fine del libro Bonazzi rievoca le grandi filosofie della Grecia il fatto che i grandi filosofi hanno preso a modello il divino ciò che è immortale Platone con la sua dottrina dell'immortalità dell'anima razionale Aristotele con l'invito a non limitarsi ad avere pensieri umani come suggerito dai poeti ma per quanto possibile athanatizei rendersi immortale almeno nella parte divina dell'uomo il suo intelletto e finalmente Epicuro per il quale chi segua la sua etica vivrà hosteos anathropois come un dio fra gli uomini dunque noi vogliamo essere immortali e felici come gli dèi è questo che veramente vogliamo secondo i grandi filosofi del passato questo rendersi simile alla divinità immortali e felici sembra essere ciò che desideriamo ma è davvero questo quello che vogliamo scrive Bonazzi il problema non riguarda tanto la condizione di perfezione degli dèi questa può essere riconosciuta senza troppe difficoltà il problema è se noi vogliamo davvero raggiungere quella condizione perché ci sarebbe un prezzo da pagare quale rinuncia alla nostra umanità non ha senso continua rifiutare la paura della morte non perché la morte sia un bene ma perché la morte è costitutiva di ciò che siamo qui arriviamo alla tesi cruciale la morte è costitutiva di ciò che siamo non è una condizione ideale ma è la nostra condizione di esseri imperfetti mancanti e così per un rovesciamento inaspettato la morte non è più quell'evento che toglie senso a tutto ciò che facciamo al contrario essa appare ora bella e preziosa proprio perché fragile bella e preziosa proprio perché fragile ciò che rende bella e preziosa la nostra esistenza è la sua fragilità la sua vulnerabilità ogni istante ogni momento sottratto alla morte all'oblio dà valore alla nostra esistenza è un istante prezioso senza la morte non ci sarebbe la bellezza della vita questa tesi mi pare semplice e profonda avevo iniziato citando avevo citato Carlo Rovelli e concludo ancora citando dal suo articolo perché mi pare di leggere qualcosa di analogo alla conclusione cui è giunto Mauro Ganazzi col suo libro non siamo scrive Rovelli padroni di tutto non siamo immortali siamo come siamo sempre stati foglie che il vento d'autunno spazza via cerchiamo di allungarla questa vita combattiamo insieme con tutte le nostre forze questo stiamo facendo tutti insieme ed è una bellissima battaglia ma è questo ciò che stiamo facendo non combattendo contro la morte stiamo regalandoci un po' di vita in più perché la vita è bellissima e viverla è ciò a cui diamo più valore ripeto per Bonazzi come per Carlo Rovelli ciò che dà valore alla vita è proprio la sua fragilità un po' di vita in più scrive Rovelli un po' di vita in più ma senza la morte senza la peste non avremmo Atene non avremmo la scuola dell'Ellade non avremmo la cultura quella cosa secondo la definizione di Albert Camus l'autore del libro La peste la cultura e il grido degli uomini di fronte al loro destino che è un destino di morte leggendo sia l'epitafio di Pericle sia la peste la peste di Atene mi pare di ascoltare quel grido degli uomini di fronte al loro destino di morte Bene vedo che mi sono dilungato più di quanto dovevo avrei voluto farvi ascoltare a questo punto come intermezzo un intermezzo musicale una splendida canzone greca di Angelique Jonathos invece vi leggerò le pagine di Tucidide dedicate alla peste di Atene io sarò semplicemente la voce dello storico Atenese spero che la mia voce sia all'altezza ovviamente filtrata da una traduzione italiana che è quella di Franco Ferrari per Bur del 1985 ma difficilmente una traduzione di Tucidide riesce a rendere la potenza della sua prosa con cui può gareggiare solo la prosa di Platone giudicherete voi io non commenterò così si svolse la sepoltura in quell'inverno e quando fu trascorso finì il primo anno di questa guerra subito all'inizio dell'estate i Peloponnesi e gli Alleati con un contingente composto dei due terzi di loro come prima invasero l'Attica al comando di Archidamo di Zeusidamo re dei Lacedemoni e accampatisi devastarono la terra non erano passati ancora molti giorni da quando costoro erano giunti in Attica che la malattia Enosos cominciò a sorgere in Atene si dice sì che essa anche prima fosse scoppiata in molte località all'Emno e in altri paesi tuttavia una tale pestilenza un tale loimos e una tale devastazione non erano avvenuti in nessun luogo a memoria d'uomo che non bastavano affronteggiarla neppure i medici i quali non conoscendo la natura del male lo trattavano per la prima volta anzi loro stessi morivano più degli altri in quanto più degli altri si accostavano al malato e nessun'altra arte umana bastava contro la pestilenza tutte le suppliche fatte nei luoghi sacri e ogni rivolgersi ai vaticini e a cose del genere risultò inutile e alla fine gli uomini abbandonarono questi espedienti sopraffatti dal male da prima quanto si dice la pestilenza cominciò in Etiopia sopra l'Egitto poi sorse anche in Egitto e in Libia e nella maggior parte della terra del re ad Atene piombò improvvisamente e da prima contagiò gli uomini al Pireo sì che dagli Atenesi si disse anche che i Peloponnesi avevano gettato dei veleni nelle cisterne al Pireo infatti non vi erano ancora delle fontane successivamente la pestilenza raggiunse anche la città alta e allora gli uomini morivano in maggior numero si dica su questo argomento quello che ciascuno pensa sia medico sia profano sia sulla probabile origine della pestilenza sia sulle cause che si potrebbero ritenere adatte a procurare tanto suo movimento io dirò di che genere essa sia stata e mostrerò quei sintomi quelle manifestazioni che uno potrà considerare tenere presenti per riconoscere la malattia stessa caso mai scoppiasse una seconda volta già che io stesso ne fui affetto e vidi altri malati quell'anno era stato come tutti riconoscevano sano più di ogni altro per quanto riguardava le malattie se anche uno si era ammalato prima della pestilenza ogni malattia andò a finire in questa gli altri invece erano presi improvvisamente senza nessuna ragione mentre godevano perfetta salute innanzitutto da forti calori alla testa e da arrossamenti e da bruciori agli occhi le parti interne cioè la gore e la lingua subito erano di color sanguigno ed emettevano un fiato strano e fetido infine dopo questi fenomeni sorgevano starnuti e raucedine e dopo non molto tempo il male scendeva nel petto assieme a una forte tosse e quando si fissava nella bocca dello stomaco vi produceva convulsioni mentre sopravvenivano svuotamenti di bile di tutti quei generi nominati dai medici e per giunta con forti dolori ai più capitava un singhiozzo con vani sforzi di vomito che dava violente convulsioni le quali poi diminuivano negli uni dopo il cessare del singhiozzo negli altri anche molto tempo dopo e il corpo a toccarsi esteriormente non era né troppo caldo né pallido ma rossastro livido fiorito di piccole pustole ulcere le parti interne ardevano a tal punto da non poter sopportare il rivestimento di vesti leggeri o di lino né altro che non fosse l'andare nudi e il gettarsi con grande piacere nell'acqua fredda e molte persone non curate facevano questo gettandosi nei pozzi prese da sete insaziabile tuttavia il bere molto o poco dava lo stesso risultato e continuamente ritorventavano la difficoltà di riposare l'insonnia mentre il corpo per tutto il tempo in cui il morbo raggiungeva il culmine della violenza non si consumava ma inaspettatamente resisteva al tormento sì che per la maggior parte morivano dopo nove o sette giorni per l'ardore interno ancora in possesso di qualche forza oppure se scampavano con lo scendere della malattia negli intestini col prodursi di una forte ulcerazione il sopraggiungere di una diarrea violenta i più morivano in seguito sfiniti per questa ragione percorreva infatti tutto il corpo a partire dall'alto il male il quale dapprima si era localizzato nella testa e se uno scampava dai casi più gravi ciò era indicato dalle affezioni che il morbo aveva arrecato alle sue estremità invadeva infatti i genitali e le estremità dei piedi e delle mani e molti si salvarono con la perdita di queste parti alcuni anche degli occhi altri guariti erano presi subito da dimenticanza di ogni cosa e non riconoscevano se stessi o i loro congiunti tale dunque in complesso secondo il suo aspetto era il morbo anche se si tralascia di descriverne molti altri sintomi insoliti in greco atopias una malattia atopos non classificabile a seconda delle particolari manifestazioni che assumeva nei singoli casi e oltre alla peste nessun'altra malattia delle solite infieriva in quel tempo anche se sorgeva andava a risolversi in questa e gli uni morivano per mancanza di cure gli altri anche se erano molto curati non esisteva per così dire nessuna medicina particolare nessun organismo sia forte sia debole era sufficiente a combattere il morbo ma il lato più terribile della malattia era la afmia lo scoraggiamento la prostrazione da cui uno era preso quando si sentiva male subito datosi col pensiero la disperazione si lasciava andare molto di più e non resisteva e insieme alla afiumia il fatto che per curarsi a vicenda si contagiavano e morivano l'uno dopo l'altro come le pecore e questo causava la strage maggiore se per timore non volevano recarsi l'uno dall'altro morivano abbandonati e in molte case furono spopolate per mancanza di uno che prestasse le cure necessarie se si accostavano alle persone morivano e soprattutto coloro che ci tenevano a un agire meritevole per vergogna infatti costoro non si risparmiavano ma si recavano dai loro amici poiché anche il compianto su chi era morto alla fine era trascurato per stanchezza persino dai familiari sopraffatti dall'immensità della sciagura e anche in altre cose nella città il morbo dette l'inizio a numerose infrazioni delle leggi più facilmente uno osava quello che prima si guardava dal fare per suo proprio piacere che vedeva avvenire un rapido mutamento tra coloro che erano felici e morivano improvvisamente e coloro che prima non possedevano nulla e avevano poi le ricchezze degli altri cosicché consideravano giusto godere quanto prima e con il maggior diletto possibile giudicando effimere sia la vita che le ricchezze e ad affaticarsi perciò che era riconosciuto nobile più nessuno era disposto poiché pensava che era incerto se non sarebbe morto prima di raggiungerlo nessun timore degli dèi o legge degli uomini li tratteneva che da un lato consideravano indifferente essere religiosi o no dato che tutti senza distinzione morivano e dall'altro perché nessuno si aspettava di vivere fino a dover rendere conto dei suoi misfatti e pagarne il fio essi consideravano piuttosto che una pena molto più grande era già stata sentenziata ai loro danni e pendeva sulle loro teste per cui era naturale godere qualcosa della vita prima che tale punizione piombasse su di loro questi dunque gli avvenimenti riguardanti la pestilenza grazie e siate forti buona serata grazie 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 grazie